Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video lo sapete che mi piace provare anche dispositivi abbastanza particolari e oggi proviamo queste due lavapavimenti non è che le proviamo oggi, le ho già provate da circa un mesetto e perché ve li porto? beh, lo direste mai che questi qua sono prima di tutto wireless quindi si usano assolutamente senza fili riescono a lavare, ad aspirare il pavimento questa alla mia destra c'è il wifi si connette all'applicazione sarà compatibile anche con Alexa ed è in grado di capire in autonomia quando aumentare o diminuire la potenza secondo lo sporco e delle superfici perché c'è tanta tanta tecnologia all'interno e soprattutto proprio adesso sono in offerta durante il Black Friday questa qua a 310 euro questa qua a 250 euro altrimenti i prezzi standard sono di circa 310 euro per questa e 410 euro per quella con il wifi e con tanta tanta tecnologia è piena di sensori c'è anche il display led nella parte superiore ma prima di cominciare con questa recensione vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare anche la campanellina delle notifiche in questo modo non perderete tutte le prossime novità e prodotti curiosi e particolari come questi ne valgono assolutamente la pena almeno secondo me fatemelo sapere qui sotto nei commenti dopodiché se non volete perdervi tutti gli sconti proprio come queste lavapavimenti vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram dedicato alle offerte siamo già più di mille stiamo continuando a crescere grazie per il supporto vi ricordo che il link lo trovate sempre qui sotto nella descrizione iniziamo da come sono fatte perché da un punto di vista estetico sono assolutamente simili anche le confezioni sono uguali questa qua si chiama iFloor 3 e questa qua si chiama iFloor S3 come detto qui come messo qui nell'etichetta che non ho tolto giusto per farle vedere così come escono dalla confezione va montata il manico si stacca in entrambi i casi e già sentite la qualità perché il manico è in metallo quindi tanta robustezza e solidità devo dire che la costruzione è davvero eccezionale all'interno della confezione troviamo ovviamente il corpo centrale il manico la spazzola con una spazzola morbida che è rotante dopodiché abbiamo tutta una serie di accessori ovvero una spazzolina per pulire eventualmente tutti i condotti anche se poi vediamo che sono anche dotati di sistema autopulente un flacone di detersivo lavapavimenti e limino adori quando finisce potete o acquistare il suo originale oppure usare un detersivo che non fa schiuma attenzione perché la schiuma in dispositivi come questi ma anche sui robot lavapavimenti è assolutamente deleteria rischia di fare molti più danni rispetto a quelli che va ad eliminare e poi abbiamo la base di ricarica un secondo filtro per l'acqua essenziale altrimenti l'acqua non viene poi aspirata e la base di ricarica perché base di ricarica ha due funzioni quello ovviamente di ricaricare i contatti sono qui nella parte posteriore questi due li vedete è uguale in entrambe le scope ma soprattutto permette anche di far sgocciolare eventuale liquido rimasto nella spazzola dopo la pulizia come funziona? nella parte superiore c'è il serbatoio qui va circa mezzo litro di acqua e un pochino di detergente di questo qui dopodiché si inserisce qui all'interno della scopa lavapavimenti quando si aziona con il pulsante nella parte superiore mi viene a chiamarlo robot perché si connette al wifi e fa praticamente tutto in automatico ma è una scopa lavapavimenti aziona la spazzola e si attiva all'interno un circuito che aspira l'acqua la getta sul pavimento bagna la spazzola e il pavimento la spazzola va a rimuovere tutto lo sporco dal pavimento e poi viene aspirata e va a finire qui un serbatoio leggermente più grande questo qui perché è da 0.6 litri si smonda e poi va svuotato quando finite la pulizia e va anche igienizzato e lavato perché è da 0.6 litri? perché raccogliendo lo sporco ovviamente il volume raccolto può aumentare rispetto al volume che avete inserito come potete vedere smontarlo è molto semplice tra l'altro il filtro tra una pulizia e l'altra va fatto asciugare e la cosa bella è che Tineco l'azienda ha pensato di mettere proprio una piccola sede per far asciugare il filtro ma anche la spazzola centrale direttamente sulla base di ricarica così non dovete appoggiare filtri per casa e magari perderli accidentalmente devo dire che la base mi è piaciuta tantissimo perché poi permette di installare questa scopa lavapavimenti in maniera compatta senza che occupi moltissimo spazio parliamo poi alle differenze quali sono le differenze principali? questa qui ha i sensori ai loop quindi quelli che gli permettono di riconoscere automaticamente sia la tipologia di pavimento che state pulendo sia quanto sporco c'è dopodiché capisce quanto è sporco all'interno e ha la modalità automatica di pulizia come detto si collega al wifi il pulsante del wifi è messo qui sopra e c'è anche un'applicazione dedicata applicazione che devo dire Tineco è appena arrivata in Italia e l'applicazione ha bisogno ancora di un po' di traduzioni tutto sommato però funziona bene ha un'interfaccia molto snella Tineco è la stessa famiglia che fa gli aspirapolvere robot di Bottecovax quindi l'applicazione gli somiglia molto ed è fatta davvero bene per quanto riguarda l'impatto grafico dall'applicazione si può gestire la potenza vedere tutti i cicli di pulizia che abbiamo fatto vedere se anche il livello di sporcizia che ha accumulato la scopa e anche il livello dei serbatoi quindi tutte le componenti di questa qui sono monitorate tramite l'applicazione come detto è supportata da Alexa ma solamente in lingua inglese per il momento arriverà poi in seguito anche il supporto alla lingua italiana cosa di più questa rispetto a questa a parte quanto detto anche l'autonomia mentre questa qui arriva a 35 minuti di utilizzo in modalità automatica questa qui si ferma a 25 minuti di utilizzo quindi qui arriviamo subito a quello che forse è la prima criticità o comunque un parametro da tenere in considerazione infatti entrambe le lavapavimenti funzionano per circa mezz'oretta da quando le accendete la prima volta quindi con una singola carica le pulite pulite per mezz'ora non solo dovete far conto che mezzo litro bene o male permette di pulire una superficie di circa 70-80 metri quadri a seconda di quanto siete veloci voi ovviamente preparate prima la superficie svuotate tutto in modo da passare ad essere il più efficienti possibili ma se avete zone un po' difficili con dello sporco magari un po' più attaccato o un po' più difficile da rimuovere allora lì l'autonomia potrebbe ridursi proprio perché avete bisogno di passare per più tempo nella stessa zona la cosa positiva però è che con queste scope elettriche con queste scope lavapavimenti potete aspirare non solo solidi quindi non solo sporcizia solida o polvere ma anche liquidi quindi vi si versa il succo di frutta vi si versa lo smoothie si versa qualcosa appunto di semiliquido potete passare con questa lei in una sola passata aspira raccoglie lava e poi voi svuotate tutto direttamente dal serbatoio apposito di raccolta dello sporco e sono dotate anche di una modalità di pulizia automatica cosa succede quando voi finite il ciclo di lavaggio loro capiscono questa capisce quanto sono sporche qui invece c'è il tasto di autopulizia fanno un ciclo di pulizia per andare a rimuovere tutto lo sporco che magari si è sedimentato nella spazzola e nei maggiori nei principali organi di passaggio dopodiché voi potete tranquillamente togliere la spazzola e quindi non toccare lo sporco in maniera diretta certo magari non è un'igienizzazione al 100% però piuttosto che andare a toccare la sporcizia con le mani anche se con i guanti tutto questo viene ridotto quello che vi consiglio io è di comunque sciacquare pulire la spazzola dopo un tot di pulizie dopo 2-3 pulizie evitate di far seccare lo sporco direttamente sullo spazzola almeno quello residuo sciacquatela non vi consiglio di mettere la lavatrice prendete un po' di detersivo da bucato lasciatela un po' a mollo sciacquatela bene poi fatela asciugare per la prossima pulizia il filtro invece del serbatoio va lavato e poi lasciato asciugare che dire sono sicuramente prodotti particolari questa qua mi ha fatto letteralmente impazzire altra caratteristica è appunto il display nella parte superiore ha un anello che permette di avere un impatto visivo sul livello di sporco di sporcizia raccolto dalla scopa e dopodiché ci sono vari red che indicano il livello di carica del serbatoio per l'acqua quanto è riempito questo qui e la modalità che avete inserito quindi avete un impatto visivo davvero bello e soprattutto il display è a colori certo non è una cosa che vi cambia la vita se volete magari risparmiare qualcosina avere un prodotto invece che bada più alla sostanza rispetto che alle funzioni beh sicuramente la Tineco iFloor 3 fa di più al caso vostro in questo caso il display non è a colori o non è LCD ma ci sono tutte le icone di cui avete bisogno quindi l'indicatore di batteria che c'è anche qui è un anello che tra l'altro si scarica e lo vedete che si scarica in maniera lineare con l'utilizzo della scopa lavopavimenti mentre qui avete un'icona che si scarica gradualmente dopodiché una spia ci indica quando il serbatoio per lo sporco è pieno un'altra spia ci indica quando questo è completamente vuoto la modalità massima e la modalità di autopulizia questa qua diciamo che è una scopa lavopavimenti dedicata a chi non vuole perdersi tanto in personalizzazione applicazione installazione e quant'altro questa qui invece quindi la iFloor S3 Siris è una scopa elettrica dedicata a quegli utenti che vogliono sì un prodotto funzionale ma anche quella parte smart irrinunciabile personalmente le ho provate entrambe con estrema soddisfazione funzionano molto bene spero che questo video vi sia piaciuto non ho notato particolari criticità nell'uso anche perché sì sono smart ma sono comunque prodotti abbastanza semplici poi da provare la pulizia è davvero ottima anche aspirando prodotti un po' viscosi o comunque non proprio liquidi al 100% magari è necessario qualche passaggio in più ma riescono a pulire davvero a fondo con efficacia io ormai non utilizzo più il mocio a casa mia proprio perché con queste scope lavopavimenti riesco a pulire le passo una volta a settimana anche perché tengo pulito bene o male tutti i giorni e in una sola passata riesco a pulire igienizzare e profumare anche grazie al detergente incluso quindi estremamente soddisfatto certo costano però bisogna anche considerare che le altre alternative disponibili sul mercato come per esempio la Bissell non costano poi di meno anzi e hanno qualche criticità in più io ho avuto la Bissell come lavopavimenti e il meccanismo per togliere la spazzola non era ben coibendato quindi dopo un po' ho avuto delle fughe di acqua e quindi la pulizia non era più efficace qui vi posso assicurare che anche sbattendo urtando la copertura della spazzola sui mobili magari mentre pulite non si stacca mai e quindi non avete mai fughe di liquido che può essere abbastanza fastidioso per questo video mi rendo conto un po' particolare è davvero tutto dateci un'occhiata il link vi lascio qui sotto nella descrizione e soprattutto fate attenzione perché sono spesso scontate quindi 310 euro per questa 250 euro per questa fatemi sapere cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.